Quali sono gli sviluppi ad oggi sul ricorso presentato dall'ex presidente dell'MP? Intanto i fatti che vengono portati in tribunale ci dimostrano che c'era una ragione nelle azioni portate avanti, c'era una normale scadenza del CDA, quindi un normale rinnovo. In questi ultimi giorni è anche soddisfazione per la nomina di un amministratore nuovo anche alla società Trade, una società Trade che come sapete è il braccio operativo del Parco Marino che si occupa di tutte quelle attività di promozione più commerciali. Noi dal primo momento abbiamo iniziato a lavorare ignorando qualsiasi tipo di condizionamento, quindi lo stiamo facendo con il massimo impegno cercando di mettere mano a una serie di problematiche che erano lì in disattese, quindi problemi sia piccoli che grandi problemi come ad esempio il regolamento di attuazione dell'area marina protetta che regola tutte le modalità delle attività nell'ambito dell'area marina protetta. Il regolamento è giacente presso il Ministero dell'Ambiente e quindi noi abbiamo accelerato l'ITER perché vogliamo attivarlo prima della stagione estiva, quindi per la prima vera vorremmo renderlo già esecutivo il regolamento. Contenzioso questo sull'AMP e sul nuovo Presidente, il nuovo CDA che sta portando via del tempo alle azioni da poter fare? Sì, sta portando via tempo e denaro ai due comuni e all'area marina protetta e soprattutto rallenta anche ciò che dovrebbe essere il lavoro ufficiale dell'area marina protetta. Però dal primo ottobre finalmente abbiamo il nuovo CDA che possa piacere o non piacere, però è stato eletto in maniera democratica e quindi loro, sebbene tra mille vicissitudini, stanno svolgendo egregiamente il loro lavoro.